Ciao cari amici, siete pronti per questo nuovo contenuto? Leggerò per voi che siete nati il giorno 14 quello che saranno le vostre caratteristiche generali ovviamente, individuali, la chiave del vostro successo, i vostri rapporti in amore e in amicizia, la vostra sfida da superare nella vita e se vi fa piacere vi ritrovate, ci rispecchiate, condividete, mettete un preferito, un mi piace, dipende da quale social state seguendo questo contenuto allora, per i nati il giorno 14, siete in un certo senso dei maghi nel saper mantenere la vostra vita sempre interessante brillanti, pieni di risorse, affrontate i rischi che mettete sempre in conto e godete delle situazioni più estreme probabilmente lascerete o avete lasciato già la casa in giovanità e desiderate un lavoro che vi faccia viaggiare dappertutto in voi esiste il forte desiderio di essere al centro dell'attenzione e di infrangere le regole la chiave del vostro successo, voi nati il giorno 14 del mese, risiede nello sviluppare autosufficienza, coraggio e buone capacità organizzative numeri 1 nelle situazioni competitive e perché avete bisogno di mettere in moto parecchie situazioni alla volta poi si suol dire tanta carne a cuocere per mantenervi occupate, imparate a stabilire delle priorità le migliori opportunità di carriera per voi sono nella posizione più visibile come pompieri, paramedici oppure nell'ambiente dello spettacolo, in borsa o nelle pubblicità o addirittura anche come terapiste psicologiche sempre voi cari amici nati il giorno 14 in amore e amicizia il vostro magnetismo sessuale è insolitamente forte sempre pronti per una festa, dovete guardarvi dal rischio però di bruciare troppo in fretta la salute e le energie siete molto intensi e poco inclini ad un compromesso la vostra sfida da superare cari amici potreste avere una natura coercitiva state attenti a non iniziare contemporaneamente più progetti alla volta e non siate in grado di seguire e a non buttarvi a capofico in imprese nelle quali non conoscete tutti gli aspetti fate molto esercizio fisico per bilanciare la vostra emotività la vostra frase emozionale per il numero 14 di nascita è in tutte le cose io sono guidato da un potere superiore con questo vi ringrazio ci vediamo per il prossimo contenuto per i nati del giorno 15 intanto se vi è piaciuto, se vi è specchiato se comunque avete qualcuno nato il giorno 14 commentate, mettete un mi piace e commentate noi siamo qui di Cartomani, sempre accanto a voi grazie 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 grazie